Musica Buonasera al pubblico di Rossini TV Questa sera il ristorante Lo Scudiero ha preparato pacoro, burro, alici, polvere d'alici e tarassaco Un piatto che ricorda le mie origini siciliane quando appunto come nei romanzi di Pirandello si andava a leccare la sarda Con quell'idea, con quel concetto abbiamo realizzato un piatto ricco di alici, ricco di mare, ricco di iodio Quindi abbiamo fatto delle alici che vengono marinate col succo di limone Che vengono poi scolate e le andiamo a mantecare insieme a un burro prima a pomata Cioè un burro ammorbidito dove si vengono in sede le alici e le andiamo poi a frullare grazie all'aiuto di un macchinario che si chiama Pacco Jet E abbiamo fatto, con questo burro abbiamo ammantecato dei paccheri Abbiamo realizzato la polvere di alici e sopra abbiamo messo delle foglie di tarassaco Un'erba spontanea che cresce nei nostri prati per dare proprio questo contrasto di amaro C'è la dolcezza del burro, lo iodio dell'alice e le foglie di tarassaco che danno appunto quello che è l'amaro al piatto Quindi pacchero, burro, alici, polvere di alici e tarassaco Vi aspetto al ristorante Lo Scudiero per farvi assaggiare questo piatto ricco di mare Vi aspetto al ristorante Lo Scudiero per farvi assaggiare questo piatto